Bentornati! Allora, cosa significa essere stonati? La domanda è giusta e legittima, ma la risposta è abbastanza complessa. Ecco perché ho pensato al video di oggi. Allora, per farvelo capire con un esempio pratico, e poi ci addentriamo un po' nei meande della teoria, vi faccio guardare questo video. I like nothing more than playing instruments in F It warms the very cockles of my heart The trouble is that F can leave me vocally, but F, you see, I like playing in F major And I like singing in F sharp F sharp Allora, cosa succede in questo video? Che questo, che è un cantante comico, ora, vi risparmi i dettagli tecnici, ma lui sta suonando in un'adatta tonalità e a un certo punto canta una nota completamente al di fuori di quella tonalità. E infatti risulta mostruosamente stonata. Sia chiaro, lo fa apposta. E anzi, non è facilissimo, eh? Non è facilissimo sentire la musica che suona in una determinata tonalità e cantare in una tonalità completamente diversa, in più col pianoforte sopra che stia suonando. Per cui, insomma, bravo, mi è piaciuto molto, è stato molto divertente questo video, ma anche molto istruttivo. Istruttivo è utile a cercare di capire che cosa vuol dire essere stonati. Allora, per cercare di dipanare un po' le nebbie, potremmo dire in maniera molto grossolana, molto grezza, che stonare significa cantare una nota sbagliata. La parola stonato ci riporta il fatto che quella nota è fuori tono o fuori tonalità. In sostanza è una nota sbagliata. Ma che cosa vuol dire nota sbagliata? Allora abbiamo due livelli di note sbagliate. Il primo livello sono quelle notte tecnicamente non stonate, ma sbagliate, riguardo la melodia o riguardo l'armonia, cioè gli accordi che ci sono sotto. Ad esempio, se io canto Fra Martino Campanaro questa è la melodia normale, giusta, diciamo così. Posso cantare le note sbagliate e cantare Fra Martino Campanaro e queste sono le note sbagliate, quindi qualcosa che ha modificato le note originali della melodia, oppure posso cambiare delle note che cambiano l'accordo sottostante. Per esempio, se cantassi Fra Martino Campanaro avrei portato il maggiore e il minore e quindi, come dire, sarebbero note sbagliate dal punto di vista dell'armonia. Questo, ripeto, è il primo livello. Il secondo livello di note sbagliate sono quelle, come dire, quelle stonate propriamente dette. Se avete visto il mio video sul temperamento o se avete visto il video sulla cordatura 440, nel caso vi lascio i link, sapete che nel nostro sistema occidentale noi per convenzione dividiamo l'ottava in 12 semitoni, cioè in 12 note. Questo significa che nel nostro sistema tra due semitoni, ad esempio un do e un do diesis, cioè le due note più vicine, non ci sono altre note in mezzo. In realtà ce ne sono come delle note in mezzo, ma nel nostro sistema abbiamo deciso che non ci sono per convenzione. Ecco quindi che quelle note che si trovano a metà strada o comunque nella via tra una nota, ad esempio un do, e il semitono successivo, ad esempio il do diesis, quindi la nota più vicina al do, vengono considerate stonate. Ed ecco quindi che troviamo le famose note calanti o le famose note crescenti. Calanti, crescenti significa in sostanza più basse o più alte, cioè più gravi o più acute. Ma più basse o più acute di cosa? Rispetto a che cosa? Rispetto a quella nota che nelle intenzioni avremmo voluto emettere. Facciamo un esempio. Questo è un do. E questo è un do diesis. Ripeto, nella nostra convenzione abbiamo deciso che tra questa nota e questa nota non ci siano altre note in mezzo. Quindi la nota più vicina a questa sia questa. In realtà, come ho detto, delle note più vicine ci sono. Ad esempio, ascoltate questa nota, ma ascoltate anche questa nota. Questa nota è sempre un do, ma è un do crescente. Cioè, è una nota che sta in mezzo tra questa nota e questa. In mezzo c'è questa nota. Questa e anche diverse altre, ovviamente. E voi potreste dirmi, ma la differenza tra questa e questa è una differenza veramente minima? Sì, certo che è una differenza minima, siamo assolutamente d'accordo, ma è una differenza minima che però è sufficiente a rendere quella nota a un orecchio educato, stonata. E quindi non giusta, come dire, diciamolo in maniera un po' grezza, non giusta. In realtà, tante persone dicono di essere stonate, ma non lo sono affatto. Perché queste persone confondono l'essere stonati con l'avere una cattiva o comunque non corretta emissione vocale. Ma questo è un problema di educazione vocale, non vuol dire essere stonati. Anche a me capita mille volte di cantare qualcosa e nel momento in cui emetto il suono la nota non è perfettamente intonata, in certi casi è perfino sbagliata. Ovviamente me ne accorgo subito e immediatamente la correggo nella nota giusta. Ecco, chi è veramente stonato questa cosa non la sa fare. Non si sa correggere. Ma perché non si sa correggere? Perché non sente la differenza e quindi non sentendo la differenza non capisce come e quando modificare la nota che emette. Un po' come se vi facessi vedere due tonalità di verde quasi identiche uno direbbe ma sì, sono due verdi, sono uguali. In realtà non sono uguali questi due verdi. E qui arriviamo al vero punto nodale della questione. Chi è stonato non sa di esserlo non se ne rende conto dato che non senti alcuna differenza tra una nota stonata e una nota intonata. Infatti io dico sempre alle persone che mi dicono sono stonata, sono stonato io gli dico sempre ma tu quando stoni senti che hai stonato e mi dicono sì e allora non sei stonato. Se senti di essere stonato non sei stonato. Semplicemente non hai i mezzi vocali per fare una corretta emissione vocale e quindi per emettere la nota corretta. Ma se senti di aver sbagliato non sei stonato. Il vero stonato non se ne rende conto. Per cui cari amici che dite di essere stonati molto probabilmente non lo siete affatto e l'unica cosa che vi manca è magari lo studio della musica e l'unico che vostro problema è l'ignoranza nel senso più puro e più etimologico del termine di non sapere come emettere una nota corretta. Ovviamente la gola è solo lo strumento tutto passa dall'orecchio quindi noi sentiamo che la nota è stonata prima con l'orecchio e poi eventualmente la modifichiamo con la voce. Per cui dicevo quello che vi manca probabilmente è semplicemente solo lo studio della musica o in certi casi l'abitudine ad ascoltare la musica non a sentirla ad ascoltarla a imparare a entrare un po' dentro. Solo chi soffre di amusia può veramente vantare davanti al mondo di essere stonato. Amusia è una condizione che colpisce meno del 4% della popolazione per cui veramente le persone che ne soffrono non sentono alcuna differenza tra le note quindi non sentono se una melodia è giusta è sbagliata è intonata non è intonata ma anche a livello proprio in maniera abbastanza macroscopica spesso hanno un cattivo o nessun senso del ritmo e soprattutto può sembrare strano per chi come me vive di musica nel senso che proprio sono circondato tutto il giorno da musica e queste persone nella maggior parte dei casi non ascoltano neanche musica nella loro vita normale non amano ascoltare la musica non la capiscono e non ne capiscono utilità e non ne sono coinvolti in alcuna maniera ecco attenzione non confondiamo all'essere stonati col prendere una stecca classica cosa che sentiamo nelle opere o anche sui cantanti pop in molti casi questo non vuol dire essere stonati una stecca equivale a un pilota che sbaglia prende una curva e va fuori strada è andato fuori strada ha sbagliato la curva magari ha distrutto anche la macchina ma non puoi dire che uno che non sa guidare ha sbagliato una curva tutto lì il problema dell'essere stonato in musica è stato risolto con autotune e con altri software e se non avete visto vi consiglio di andare a vedere il video che ho fatto su autotune ma ci sono anche dei cantanti tipo giovanotti che notoriamente stonato ma qui non interessa particolarmente essere intonato anzi se vogliamo è diventata una caratteristica del suo modo del suo modo di cantare e voi potete dirmi si aveva nel pop una cosa nella lirica un'altra sì è vero certo in lirica sarebbe impensabile che un cantante cantasse tutto stonato e tuttavia ci sono stati diversi cantanti e diversi cantanti anche una certa fama che non avevano nell'intonazione il proprio punto di forza anzi spesso e volentieri l'intonazione era abbastanza carente eppure sono diventati comunque dei cantanti importanti e attenzione che l'essere stonati non riguarda solo la voce anzi ci sono delle situazioni soprattutto riguardanti gli strumenti ad arco che non hanno come il pianoforte una nota precisa il pianoforte non può essere stonato potrebbe essere scordato evidentemente ma chiunque suonando un tasto il pianoforte emetterà se il pianoforte accordato una nota intonata sul violino o comunque su strumenti ad arco non è così perché non avendo i tasti ogni singola nota va trovata e va intonata per cui vi troverete in una situazione che messo il dito sulla tastiera il dito così emette una nota intonata e così la nota è stonata così è intonata così è stonata insomma è una materia abbastanza complessa e comunque per togliere ogni dubbio vi faccio adesso un test che vi dirà se siete stonati o se non siete stonati riguardiamoci questo pezzo del video precedente I'll keep playing in M major but I'll keep singing in M shot beh se nel modo di cantare di questo cantante non avete sentito niente temo che siate stonati mi spiace non ci posso fare niente e forse neanche voi scrivete nei commenti che cosa ne pensate dell'essere stonati e qual è il vostro rapporto con l'intonazione vostra e degli altri in più se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale e se avete piacere potete anche abbonarvi scrivete anche nei commenti se volete che trattiamo qualche altro argomento del genere e noi ci vediamo al prossimo video non mancate